Il Natale è una ricorrenza che celebriamo ogni anno. E' sempre bene soffermarsi qualche istante per pensare a quali siano i valori che questa importante festa religiosa vuole trasmetterci. Siamo sicuri che ognuno di noi possa, dall'ittimo del suo cuore, trovare altri importanti e profondi segnali. Ogni Natale lascia un segno in ciascuno di noi, una frase, un sorriso, un abbraccio. Noi speriamo di avervi lasciato il ricordo di un bel presepe e una piccola luce di vetremme in ognuno di noi. Buon Natale! Noi speriamo di avervi lasciato un bel presepe e una piccola luce di vetremme in ognuno di noi. Dal momento che non conosco uomo, lo Spirito Santo verrà su di te e l'Onnipotente Dio come una nuve ci avvolgerà. Per questo il bambino che avrai sarà santo, figlio di Dio. Grazie!